Buongiorno a tutti, per chi di voi non mi conoscesse sono Mattia Namar, VIP Italia di Antavo. Il motivo per cui sto facendo questo video oggi è per annunciare che Antavo quest'anno sarà sponsor dell'IP Summit, uno dei principali eventi dell'ecosistema tecnologico in Italia del mondo fashion e retail. Se ci sarete anche voi il 20 e 21 novembre a Milano sarete sicuramente i nostri ospiti presso il nostro lounge dove avremo la possibilità di mostrarvi come abbiamo aiutato famosi brand del fashion ma non solo a migliorare le loro strategie di customer retention con iniziative che vanno al di là del semplice ciclo d'acquisto. Se volete assicurare un incontro con noi è sufficiente compilare il modulo che potete trovare in descrizione oppure visitarci presso il nostro stand. Grazie a tutti e buona giornata.